Alla fine si è dimesso. Anche Marco Venturi, assessore tecnico della prima ora, ha lasciato il governo regionale del dimissionario Raffaele Lombardo. Dimissioni irrevocabili le ha definite. Alla base, certamente, i continui contrasti con l'ex governatore, culminati nella vicenda relativa alla nomina del commissario straordinario dell'IRSAP, l'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, che sostituisce i consorsi per le aree industriali. Una polemica scandita nel tempo è che ha spinto Venturi, qualche settimana fa, a presentare tre esposti alle procure di Palermo, a Grigento e alla procura presso la Corte dei Conti. Venturi, imprenditore, ex presidente della Camera di Commercio di Caltanissetta, vicino al senatore Beppe Lumia, era stato nominato assessore da Lombardo nel 2008 e sul fronte politico tiene banco l'approvazione, avvenuta ieri alla Camera, del disegno di legge voto che in Sicilia riduce da 90 a 70 il numero dei deputati. Ma bisognerà aspettare il 2017 per vedere applicata la legge. In Sicilia, infatti, si voterà il 28 ottobre per il rinnovo di Sala d'Ercole, ben prima dell'eventuale via libera definitivo alla norma, che tornerà in Senato e poi nuovamente a Montecitorio tra tre mesi. Dunque, l'imminente rinnovo dell'ARS sarà regalato dall'attuale norma contenuta nello Statuto Autonomistico, che fissa in 90 il numero dei deputati. Lo slittamento del taglio di 20 deputati impedirà un risparmio già nella prossima legislatura di circa 30 milioni di euro, cifra che tiene conto dei recenti tagli a indennità, rimborsi, forfettari, benefit, portaborse ed altri privilegi pagati con i fondi pubblici. Il disegno di legge voto trasmesso in Parlamento è stato approvato dall'Assemblea regionale il 7 dicembre dello scorso anno, con 59 voti a favore, uno contrario ed un astenuto. Il testo, voluto con forza dal deputato regionale del PD Giovanni Barbagallo, per ben due volte fu bocciato in commissione, prima all'affare istituzionali e poi in quella speciale per la riforma dello Statuto. La legge, quando sarà approvata definitivamente, avrà un impatto anche sulla pianta organica dell'Assemblea, dove lavorano 270 tra dirigenti, funzionari, assistenti e coadiatori parlamentari. In questo momento la Sicilia ha il numero di deputati regionali più alto in termini assoluti, uno ogni 55.000 abitanti, mentre in Lombardia il rapporto è di un deputato ogni 100.000.